Benvenute e benvenuti in questo nuovo video che aggiunge pagine ai quaderni di fotografia. Siete pronti per scoprire tutti i segreti del contrasto in fotografia? Il contrasto, un elemento fondamentale della fotografia, è uno strumento potentissimo per creare effetti visivi e trasmettere emozioni nelle nostre foto. Ma parlerò soprattutto di contrasti tra immagini e fotografi. Andremo a scoprire cosa avvicina a lontana e mette in contrasto i fotografi differenti. Quello che io cercavo di mostrare era un mondo dove mi sarei sentito bene, dove le persone sarebbero state gentili, dove avrei trovato la tenerezza che speravo di ricevere. Le mie foto erano come una prova che questo mondo può esistere. E invece no. Contrasti nelle foto oggi sì, ma anche contrasti con i modi di pensare. Rivelazioni e contraddizioni. Diversità di vedute, non per dire questo è meglio o questo è peggio, ma per sapere che ci sono contrasti, diversità, differenze. E per vedere quali punti di contatto ci possono essere scoprire anche dei legami, forse. Accostiamoli, ma non per forza uno dopo l'altro. Ci vorrebbe una tavola dei contenuti, perché ogni foto ha un contrasto diverso da ogni altra foto, così come i fotografi tra di loro. Bisognerebbe poter vedere tutti questi elementi non in uno svolgimento temporale e poterli accostare in maniera variabile e libera. Ogni foto, ogni frase è in contrasto con un'altra. Ogni foto si oppone all'altra con una forza uguale e contraria. La tavola di Archimede della fotografia. Primo contrasto, Sebastiao Salgado. Se la frase di prima era cercare di mostrare un mondo in cui mi sarei sentito bene, questa è già la prima negazione. Uomo contro uomo, o forse uomo contro uomini. Fatica, sfruttamento, dispersione. Uomini come pixel separati, spersi. Tutti a fare contrasto per non scivolare più in basso, in un già inferno. Il contrasto tra un punto fermo e il bagnato, il fradi, ciò che scivola e si disfa. Potrebbe sembrare un'immagine di pace, ma c'è il nomadismo. La provvisorietà, anche qua. La densità che crea un polverone, fumo. E la fatica è sempre presente. E dove potrebbe esserci ricchezza, anche se chiusa nelle mani di pochi, questa viene sprecata. La cattiveria, la vendetta, non solo contro l'uomo, ma verso la terra madre. Insozzata, sporcata, resa imprendibile. O l'inchino alla siccità, pronti a baciare, a inumidire l'arsura più avvilente. Chinarsi per baciare, nel tentativo di riappiacificare, rinnamorare. La ricchezza di una preghiera nell'arido dell'uomo. Un sussurro per risvegliare. Secondo contrasto, Ansel Adams. La potenza della natura. La forza della fotografia indissolubilmente legata con la natura. La sua invincibilità. La sua missione era celebrarla perché tutti la preservassero e ne capissero il potere e il rispetto. Ogni foto è unino alla bellezza della natura e alla sua capacità di suscitare emozioni intense e profonde negli esseri umani. Attraverso i suoi scatti, Adams è riuscito a cogliere l'essenza stessa della natura, restituendoci immagini che ci colpiscono per la loro bellezza e la loro potenza evocativa. In questo senso le fotografie di Adams sono un esempio di come il contrasto possa essere utilizzato per esaltare la bellezza e la forza della natura, sottolineando la sua invincibilità e la sua capacità di suscitare emozioni intense e profonde in chi la contempla. Il contrasto diventa un elemento fondamentale per trasmettere la forza e la maestosità della natura che si impone all'occhio dello spettatore in tutta la sua grandezza. Il lavoro dei campi, ecco, un contrasto trasversale con il lavoro di Sebastiao Salgado di prima. Il lavoro per arricchire pochi e il lavoro per arricchire una nazione. Ma siamo sicuri che ci sia poi un contrasto una volta lasciato da parte le condizioni di benessere? Hansel Adams, questo buffo omino tondo dagli occhi a spillo, che per primo ha capito e indagato i chiari e gli scuri, li ha separati in zone diverse cercando di ottenere il meglio da ognuno di loro. Il grigio della zona 5 era tutta un'altra storia da quello della 6 e tutti erano profondi e veri. Non per niente era un musicista e amante alla follia di Bach, genio squisitamente assimilatore, ancor più che innovatore. Terzo contrasto, Dorothea Lange. Qui c'è un'analogia, un contatto. Entrambi su di un'auto. L'uomo tecnologico, ingegnere, meccanico e la donna più avventurosa e pratica. Lei gira la California in lungo e in largo a fissare sulla pellicola l'epoca della Grande Depressione. Documenta questo grande contrasto diffuso. Famiglie disperate. Fu tra le prime a percepirlo, spostando la lente del suo studio dall'elite sociale di San Francisco alla strada, in cerca di una fotografia diretta, disoccupati, senza tetto, ma anche tanto orgoglio. Bambini. Persone con cui entrare in contatto, a cercare il contrasto della reazione alla disperazione, ma senza mai perdere fierezza e dignità. I suoi lavori più famosi trattarono le condizioni di classi sociali povere, con un maggior riguardo verso i migranti e i lavoratori. Questi rappresentavano gran parte della società americana ed erano il punto di partenza per lo sviluppo di un paese che da lì in poi sarebbe diventato la forza mondiale che è tutt'oggi. Quarto contrasto. Stephen Shaw. Una cosa di bellezza è una gioia per sempre canta, ma ce la dice al contrario, dall'altra parte. Lui è già dove si sta bene. Il solitario disperato migrante abbandonato ad un futuro incerto ora cammina su di un altro ciglio della strada, che invita verso luoghi sconosciuti, non citati, che non ci è dato sapere. Comunque sicuramente bellissimi. Arcobaleni e colori e il mondo sembra sotto una luce diversa. Anche se il suo scricchiolio delle periferie urla tramonti, questa volta scritti e definiti. Epistole urlano profetiche la loro libertà incontrollata. Contrasti fotografici con il protagonista, il colore e l'apparente elenco di una varietà infinita. Fa pensare all'assenza di giudizi soggettivi penetranti su cosa fotografare. Apre ad una canzone che parla di una contrastante eternità. Quinto contrasto. Diane Arbus. Anche la ricchezza paga un prezzo, e non sempre, è sufficiente. Famiglia ricchissima, grandi magazzini, proprietà, ottimi docenti la introducono nel mondo della fotografia. Lei è tutto ciò che genera paura. Sì perché i contrasti generano curiosità, attrazione, richiamo, ma i contrasti urlano e quando urlano generano paura. spostano l'asse di riferimento. A volte disequilibrano. Fanno entrare in mondi sconosciuti, ci portano in zone d'ombra. Ci avvicinano a quello che nascondiamo. A volte ci si perde nei contrasti violenti e non si riesce più a capire dove siano i confini, dove sia la stabilità, il punto di riferimento. Oppure sono lì. Sono porte che si aprono. Sono stanze che vogliamo frequentare. Il contrasto è tra il conosciuto e lo sconosciuto. Ci fanno entrare nelle stanze buie. Portano nell'intima essenza di se stessi. E tutto si moltiplica. Diane era ossessionata dal doppio. Questo è il suo contrasto personale, perché anche dentro siamo contrastati. A volte si esprivi di sfumature. Pure la visione si mette in contrasto, si squilibra e apre spazi sui fianchi, sullo sfondo, sulle vie di fuga. Teniamoci per mano per piangere meglio. Del resto Diane è stata vittima del nero che non genera contrasti, regalandocene di forti e violenti. Turbolenti. Sesto contrasto Richard Avedon. Studiano insieme e si frequentano per un periodo anche abbastanza lungo. Ma la vicinanza non vuol dire assenza di contrasto. Due mondi. Con Avedon si balla. La vita è spumeggiante. Mai ferma. Fuori dai pantani. Gioia o effimero? La gioia è effimera. Il denaro, la moda, la frivolezza fanno bene. Ma generano contrasti? O il loro obiettivo è proprio nascondere e sedurre. Portare altrove con maestria. Con alta maestria. Ma sempre arriva la sorpresa. In tutto questo. In questo mondo se perdi l'equilibrio c'è sempre qualcuno pronto a raccoglierti. Almeno così si racconta. Poi sei sempre pronto a scattare in avanti anche se non sai cosa sia questo avanti. Il contrasto sta proprio in questo mondo che è sfocato sullo sfondo lontano e piccolo. Le anime vivono di contrasti e li sanno cogliere. Di questo contrasto ha fatto la sua istentività. Quello tra il mondo interiore e quello esteriore. Qui lo scatto rubato diventa il contrasto per eccellenza. Un'altra immagine dell'immagine creata, voluta, imposta. I lustrini ci sono ma il pensiero e l'anima sono già altrove. Settimo contrasto. Lewis Hine. Le vertigini dell'America. Altra vertigine, altra follia. Chi costruisce l'impero. Chi si solleva e rischia. Benvenuti in America. Welcome to the United States of America. Si intitola scalata all'America. Perché in America si può salire. In America si va in alto. Lo dicevo prima. L'America è una vertigine. Ma ti fa anche sprofondare in basso. Più in basso di quello che pensi. E questo non prevede un prima o un dopo. È in contemporanea. Il maggior contrasto non ha contrasto. Non se lo merita. Qui è tutto nero. E il contrasto dissimulato arriva fino al lavoro minorile più sfruttato. I bambini. Tanti. Sfruttati, non protetti. Inizia il Novecento e la vera novità è che gli striloni New Boys, da ogni angolo delle strade, vendono giornali. Bambini. Straccioni. Figli di immigrati. Poveri. Compravano cento coppio di un quotidiano per 50 centesimi l'uno e poi le rivendevano a un dollaro. Quando scoppiò la guerra tra Spagna e America per il controllo di Cuba, le tirature dei giornali aumentarono a dismisura e i due magnati rivali della carta stampata, Joseph Pulitzer, vi dice qualcosa, e William Hearst, aumentarono i prezzi per i New Boys. Gli striloni avrebbero comprato a 60 centesimi a coppia e compensato il maggior costo grazie alla crescita del mercato. Dopo la fine della guerra, le vendite di giornali crollarono. Pulitzer e Hearst decisero di mantenere invariati i prezzi. I newsies così decisero di proclamare uno sciopero e un boccottaggio. I bambini. Quelli dei giornali agli angoli di strada. Così si passò da 360 mila coppie vendute al giorno a 125 mila. Kid Blink e David Simmons, i due leader dello sciopero, riunirono circa 7 mila striloni della città in un grande incontro a Irving Hall. Dopo due settimane di boicottaggio, Pulitzer e Hearst avevano perso montagne di denaro. Quindi proposero un compromesso agli striloni. Le coppie avrebbero continuato a costare a 60 centesimi, ma i giornali avrebbero ricomprato tutte quelle invendute a fine giornata. I bambini agli angoli di strada. Un contrasto finalmente vittorioso. Anch'io non sono affatto domato. Anch'io sono intraducibile. Se subito non mi trovi, non scoraggiarti. Se non mi trovi in un posto, cercami in un altro. In qualche posto mi sono fermato e t'attendo. Ottavo contrasto, l'ultima cantica, il paradiso, dove non esistono contrasti. Masao Yamamoto. La pace, l'equilibrio, l'armonia. Contorni sbiaditi, lo spazio tra cielo e terra. Il cielo vuoto, vago. Ci sono forze invisibili che muovono l'universo e forze molto presenti che muovono i corpi. Una buona foto è quella che lenisce, che fa sentire gentili. Un fiore sarebbe bello si moltiplicasse grazie alla cura e portasse a contrasti più ricchi, che ci arricchisse contaminando il mondo dopo la lotta. Anche nella luce esiste uno spiraglio, dove c'è ancora più luce. Ma il bianco da solo abbaglia. Senza quel nero ai fianchi in basso non riusciremmo a distinguere niente. Non posso dire che non mi piaccia, la quiete e la benevolenza mi appartengono, ma il contrasto mi appassiona, almeno nelle fotografie. Quello che io cercavo di mostrare era un mondo dove mi sarei sentito bene, dove le persone sarebbero state gentili, dove avrei trovato la tenerezza che speravo di ricevere. Le mie foto erano come una prova che questo mondo può esistere. Il contrasto è un'armonia, quello che mette in contatto differenze. Tanto bianco, tanto nero. E in mezzo noi dobbiamo caricarlo di un'infinità di grigi. Vedere così spessore, profondità e sapere accostare e comprendere quello che ci circonda. Dare forma. Proprio come con l'inchiostro, con la carta, bianco su nero, ma i segni non sono il senso, lo sono le parole che si avvicinano l'una all'altra. Ecco, la vita è un poco questa cosa. Ed è un piacere accostare le differenze e capirle o accettare di non capirle. Verrà qualcuno dopo di noi. Grazie per essere stati insieme fino a qui. E sapere che questo racconto vi ha fatto piacere, vi ha scatenato pensieri è il motivo per cui l'ho presentato. Quindi ogni vostro commento è il benvenuto. Se vogliamo restare in contatto, iscriversi al canale è una possibilità. Ricevere la blog letter senza francobollo è un modo per non perderci di vista ancor più sicuro. E mi fa continuare con più forza e decisione. Grazie ancora. Un bacio. Ciao. E guardate gli altri video. Mi raccomando, ce ne sono un'infinità, più di cento. Navigate per il canale. Grazie ancora. Vi saluto. Ciao a tutti. Da Roberto. Seguite i consigli. Sono qui a fianco.